Musica Buonasera a tutti voi telespettatori, come ogni domenica vediamo insieme i fatti principali della settimana. Riforma della sanità, riduzione delle ulsa, azienda zero, l'ostruzionismo e il muro dell'opposizione in regione non fermano il presidente del Veneto Luca Zaia. Bisogna arrivare a una sintesi perché è inevitabile che all'infinito non si possa andare. Noi abbiamo dei punti saldi che sono quelli della provincializzazione di fatto delle ulse, c'è questa proposta con 9 ulse e quindi con 2 ulse in più rispetto al numero delle province. Abbiamo ovviamente la conferma dell'azienda zero che non è altro che il contenitore che ci permette di fare economia di scala. Invece di avere 21 uffici legali ne avremo uno, invece di avere 21 uffici tecnici ne avremo uno. A me non sembra che queste siano cose che i cittadini non vogliono. Le ulse continueranno a gestire il loro budget come prima, per cui non capisco quali sia il problema. Delle due ulse in un capoluogo di provincia, lo ricordiamo, una è quella di Bassano che il governatore ha tutelato considerando l'importanza di un territorio come il Bassanese e il territorio della Pedemontana. Ridurre da 21 a 9 e riorganizzare le ulse, ha sottolineato Zaia, non significa chiudere ospedali. Prima di tutto la salute dei veneti, ha detto. Non lo diciamo noi che abbiamo una sanità all'avanguardia, ma lo dicono a livello nazionale, perché tutte le statistiche dicono che i nostri operatori, i nostri ospedali sono quelli che curano meglio. Sostituire le parole azienda zero con le parole azienda sotto zero oppure azienda XXL. Sono questi solo due degli emendamenti presentati in consiglio regionale dai gruppi di minoranza durante la discussione sulla nuova legge della sanità veneta. L'esempio perfetto di come invece di pensare al bene dei cittadini si butti via tempo al solo scopo di rendere sterile la discussione e far scadere il termine ultimo per l'approvazione della legge che dovrebbe riformare l'intero servizio sociosanitario regionale. Noi non ci sentiamo di avere la ragione in tasca, però vogliamo che l'opposizione ci porti qualcosa di concreto. Ci dicono cosa secondo loro è migliorabile, è modificabile di questa riforma e noi siamo pronti ad accogliere e a valutare le loro proposte. Ma finché parlano di modificare il nome dell'azienda zero in azienda multipla o in azienda XXL o in azienda sotto zero, questa non è una posizione costruttiva. Questa è una posizione che sta facendo spendere soldi di contribuenti solamente per bloccare una riforma che il presidente Zai ha voluto a tutti i costi. Un ostruzionismo quello delle opposizioni che sta bloccando l'intera macchina amministrativa veneta. Le opposizioni fanno ostruzionismo fino a se stesso bloccando i lavori della giunta e del consiglio regionale impedendo le istituzioni regionali di poter dare risposte ai cittadini delle imprese che le attendono. Io stesso sono stato costretto a convocare la commissione che presiede la terza durante la pausa pranzo del consiglio per riuscire a dare il parere ad alcuni provvedimenti che sono tanto attesi dai cittadini e dalle imprese. Questo non è assolutamente possibile. Noi chiediamo all'opposizione un senso di responsabilità fornendo dei suggerimenti migliorativi che siamo disponibili a valutare per fare in modo che il provvedimento sulla sanità che uscirà dal consiglio sia un provvedimento di tutti e che rappresenti un investimento, una pietra miliare per quanto riguarda la sanità del futuro. L'archivio di Stato è un bene di tutti e non solo dei bassanesi. Per questo Bassano, prima in Italia, pensa a realizzare l'archivio del territorio, un progetto che trova l'appoggio anche della comunità religiosa cittadina. In questo archivio ci sono anche molte cose che riguardano la vita ecclesiale, soprattutto i documenti delle confraternite, cose che avevano una rilevanza estrema nella vita ecclesiale, oltre che civile perché avevano anche questo. Allora, io dico, sono radici che non bisogna recidere. Non sanno bene quanti ormai da mesi combattono al fianco di Rete Veneta per salvaguardare questo prezioso servizio, tra loro anche il FAI che ha scelto proprio l'archivio come luogo del cuore. In questi giorni noi stiamo correndo per riconsegnare moduli da tutte le parti, lo rifaremo e aumenteremo anche i luoghi dove si potrà votare. Inoltre, domenica 3 luglio, ci troverete tutto il giorno in Piazza dei Signori con il nostro gazebo dove potete firmare. E mentre continuano la raccolta firme arrivano già le prime buone notizie. Ho già avuto una telefonata del sindaco di Bassano che mi tranquillizza. Sembra che i sindaci siano d'accordo e quindi che possiamo finalmente muoverci e fare questa lettera a Roma dicendo siamo pronti. Ecco, veniamo a firmare. Firmare perché l'archivio rimanga per questi tre anni, vuol dire l'impegno economico. Forse non ci saranno tutti i sindaci magari. Io spero che tutti si lasciano convincere perché queste sono carte anche loro. Gli effetti della Brexit si fanno sentire anche nel nostro territorio. Basato sul lavoro delle piccole e medie imprese, molte delle quali sopravvivono in tempi di crisi proprio grazie all'export. L'uscita dell'Inghilterra dall'Europa porterebbe a un danno maggiore di quello che già stanno subendo le nostre imprese. Come afferma il presidente di Confim Industria Veneto e del mandamento bassanese di App Industria, William Beozzo, considerando che nel mercato italiano l'Inghilterra occupava il quarto posto. Al momento la situazione è molto preoccupante. Quello che più preoccupa gli imprenditori è questa incertezza continua. Decisamente l'uscita della Gran Bretagna ha dato uno scossone non da poco. La situazione oggi nel nostro territorio qual è? La situazione del territorio bassanese, mercato interno completamente fermo. Pochissime aziende che stanno lavorando con l'Eistro ma stanno rallentando anche loro. Noi a confronto ad altri territori del Vicentino siamo quelli che stanno soffrendo di più. Perché questo secondo lei? Perché le aziende sono meno strutturate. Se noi facciamo un esempio nel territorio dell'Alto Vicentino, aziende più grosse, mentalità diverse, anche il fatto di fare squadra, quello che noi oggi facciamo fatica. E a proposito di fare squadra, non è la prima volta che Beozzo sottolinea l'incapacità del bassanese di lavorare in maniera concretamente unita? E questo è un grosso problema che ci costerà caro se non cambiamo velocemente mentalità. È importante che noi ci troviamo, ragioniamo e io dico sempre che è meglio essere soci di un'azienda che guadagna che essere padroni di un'azienda che è destinata a morire. Bisognerebbe unirsi, costruire un vero gruppo al di là dei colori politici, delle simpatie, delle antipatie, delle sigle e ragionare per una grande bassano. Quindi lavorare veramente per il bene e soprattutto per la gioventù bassanese. Presunto caso di bullismo all'istituto comprensivo di Mussolente, la notizia si è diffusa in un batter d'occhio sui social network e ha coinvolto e inevitabilmente preoccupato centinaia di genitori. Dobbiamo pensare a tutelare al massimo i nostri ragazzi, così la dirigente scolastica Laura Biancato, che ha convocato un consiglio di istituto straordinario per fare il punto sulla situazione. Questo presunto caso di bullismo non è un caso di bullismo. Noi non abbiamo mai insabbiato né negato che ci fossero stati in passato casi di effettivo bullismo. Abbiamo sempre collaborato sia con le forze dell'ordine che con l'amministrazione comunale nel caso in cui abbiamo rilevato che qualche cosa tra i ragazzi non andava. Questo non è un caso di bullismo. Noi abbiamo lavorato con la famiglia cercando di mettere a disposizione strumenti e possibilità di incontro anche con l'ausilio della nostra psicologa scolastica. Come scuola come vi state muovendo voi? La nostra scuola si muove come si è sempre mossa, cioè mettendo a disposizione strumenti per i ragazzi, in particolare lo sportello di ascolto, la cassetta della posta che è un modo per poter segnalare anche senza dover dichiarare la propria identità. Queste segnalazioni sono importanti perché ai ragazzi va dato spazio per parlare, va dato loro ascolto. Poi naturalmente continuiamo a lavorare con le famiglie. Diventa indispensabile in ogni caso il supporto delle famiglie proprio alla scuola? Nell'educazione dei ragazzi la questione è sempre molto complessa, molto complicata, specialmente in questo particolare contesto sociale che stiamo vivendo. Anche perché si parla di ragazzini, di minorenni? Ecco, questa è una cosa importante. Noi abbiamo a che fare con minori di 14 anni che vanno assolutamente tutelati, motivo per cui quando la cosa finisce sui giornali o sui social, a maggior ragione, si tratta di questioni gravi che devono essere affrontate in maniera diversa. Dei ragazzi non va detto niente nei social. La gente si è un po' spaventata, anche perché non siamo forse stati preparati un po'. La gente ce l'ha già detto, i nostri clienti che sono un po' preoccupati, perché anche i bambini che vanno a piedi a catechismo e mamme sono preoccupati. C'è già stato un scambio di pareri tra i paesani. La notizia dell'arrivo di alcuni profughi ha avuto a Valle San Floriano l'effetto di un fulmile a ciel sereno. Nella tranquilla frazione collinare di Marossica negli ultimi giorni non si parla d'altro. I richiedenti asilo, probabilmente quattro, dovrebbero soggiornare in questa casa di proprietà della parrocchia, in via Prai, a poche centinaia di metri dalla chiesa. E' stato il parrocco stesso a dare la notizia ai residenti. Se arrivano ragazzi che di notte si ubriacano, o fanno casino, o durante il giorno finirebbero il negozio aperto, il paese è piccolissimo, non ci sono servizi che vanno in pulma, che passano avanti, se si bivaccano qua davanti. Si spera sempre che siano delle brave persone, anche perché qua siamo un paese tranquillo, siamo tutti tranquilli, nel senso che sì, la paura un po' c'è, però con la giusta preparazione speriamo. Se fossero una famiglia sarebbe meglio, diciamo. Tutti abbiamo un po' un timore, diciamo, nel senso di dire delle cose nuove, però non questo non è che abbiano detto di no, anche perché comunque non è ancora niente di confermato. Il giudice condanna il presidente della Bassano Rally Racing, Narciso Pacagnella, per il reato di lesioni personali colpose, giudicando la scuderia bassanese, l'unica responsabile del terribile incidente accaduto il 26 settembre del 2009, lungo i tornanti di Fozza, nel corso dell'ottava prova speciale Vastagna. Assolti, invece, gli altri tre imputati al processo, ovvero i commissari di percorso che si trovavano sul posto al momento dell'uscita di strada della Peugeot 106 del pilota Christian Kemin. Nel sinistro, lo ricorderete, furono travolti diversi spettatori, otto rimasero feriti, uno dei quali in maniera grave. Sette di loro si sono costituiti parte civile, chiedendo agli imputati decine di migliaia di euro di risarcimento. Oggi la sentenza, di primo grado, ha indicato Narciso Pacagnella come unico responsabile di quanto accaduto in gara, una decisione che ha sorpreso tutte le persone presenti in aula che l'hanno definita inspiegabile. Inevitabile che la sentenza abbia ripercussioni sul futuro della Bassano Rally Racing, che sta già pensando ad una scelta clamorosa, cancellare per sempre il rally città di Bassano. Ora si attendono le motivazioni della sentenza che saranno depositate tra 15 giorni, non è escluso che la scuderia bassanese faccia ricorso. 1.023 firme per chiedere all'amministrazione comunale di Bassano il ripristino del ponte pedonale di Via Piave sono state raccolte in appena 5 giorni e protocollate stamattina in municipio. I cittadini non ci stanno, le attività economiche della zona stanno soffrendo, anche a causa della chiusura del passaggio. Ora pretendono dal sindaco Poletto e dai suoi assessori risposte chiare e in tempi rapidi. Mi è sembrato talmente strano che per abbattere un ponticello che un fabbro con due persone si mette due giorni ci sono voluti un anno e mezzo. Fatto pensare che per costruire il ponte di Bucni con le dovute proporzioni naturalmente sono stati impiegati 14 mesi, ma non per distruggerlo, ma per costruirlo è anche bene mi pare. Qui invece mi pare che questa amministrazione secondo me non vuole più costruirlo, non lo vuole più. Perché? Boh, non lo so perché. Quindi avendo un'attività lì, proprio con il ponte chiuso, non ci possiamo permettere di fare nessun tipo di attività perché quel passaggio lì era molto importante per noi, per cui già in un momento difficile adesso proprio col ponte così è praticamente impossibile. C'è un'esigenza fortissima da parte di tutto il quartiere. Cosa si dice in quartiere rispetto al tema? Ma dicono che il ponte fosse assolutamente sicuro e che forse c'è qualcos'altro sotto e che lo hanno voluto togliere per qualche altro motivo. Tanti quesiti che rimangono ancora senza risposta, ma ora sono più di mille coloro che hanno preso in mano la pena per sottoscrivere la petizione per il ripristino del ponte pedonale di Via Piave e il sindaco certo non potrà far finta di niente. Queste foto dicono più di mille parole Bassano Centro, una smart parcheggiata in Via Angarano durante il mercato della domenica di campagna amica tra una bancarella e l'altra tanto che uno degli ambulanti ha pensato di camuffarla con una bandiera della Col di Retti non un vigile presente. E' sempre tra le bancarelle, motociclette, scooter, vespe, oltre le automobili. Ma dove è finita la ZTL del fine settimana in Angarano? Sparite le transenne e spariti i vigili che non spariscono però in molte altre occasioni facendo scattare la multa facile. Forse la domenica mattina preferiscono starsene tranquilli in ufficio più che andare a controllare le vere irregolarità che appaiono agli occhi di chiunque passeggi per il mercato contadino come il nostro telespettatore che ha subito chiamato Rete Veneta. Non è che, ci ha scritto, la polizia locale di Bassano usi un metro e due misure? Nasce a Campo San Piero l'idea di una rosa per Valeria l'iniziativa che tra una settimana, dal 9 al 16 luglio vedrà un gruppo di appassionati delle due ruote pedalare da Mestre a Parigi per ricordare Valeria Solesin, la giovane studentessa veneziana tragicamente scomparsa nella strage del Bataclan a Parigi. Dieci in tutto i protagonisti di questa avventura, nove uomini e una donna che da Mestre arriveranno fino alla capitale francese passando attraverso l'Austria, la Svizzera, fino a Parigi per arrivare a deporre una rosa davanti al teatro Bataclan in memoria di Valeria. Tra una settimana alla partenza ci sarà anche Francesco Moser padrino di un'iniziativa che vedrà protagonisti per correre 1160 km e tutti gli amanti della bicicletta ritrovarsi invece per un raduno di 35 km a velocità controllata che arriverà fino al parco di Trebaseleghe con uno scopo benefico raccogliere fondi per acquistare un ecografo. Ci sto a fare fatica, si chiama così il progetto finanziato da Farmacasa e che in queste prime settimane d'estate sta coinvolgendo centinaia di ragazzi tra i 14 e i 18 anni che volontariamente si stanno impegnando per ordinare, pulire e sistemare spazi e beni pubblici bassanesi. I ragazzi svolgono attività nel numero di circa 80-81 a settimana sono attività di tutti i tipi ma di quello che abbiamo definito manutenzione del bene comune e perciò i ragazzi si impegnano in quei luoghi considerati pubblici beh qua siamo ai giardini parolini ma non solo, anche nei quartieri della città dalla prossima settimana potrete vedere qualche maglia arancione in centro storico. Lavori di ogni tipo in cambio dei quali i ragazzi ottengono dei buoni spesa. Buoni per i libri scolastici, per i libri di lettura, per la cartoleria piuttosto che l'abbigliamento oppure abbiamo i buoni per la spesa alimentare o anche il tempo libero quindi piscina e cinema. Piuttosto che stare davanti alla televisione preferisco stare all'aperto perché sono all'aperto e comunque sono insieme ad altre persone conosco altre persone e aiuto anche a tenere pulito o comunque faccio delle cose per il mio comune. Ho voluto aiutare, contribuire un po' al mio comune e fare un po' di lavori con un po' di miei amici. Sai già cosa farai con questi buoni? Beh ho comprato alcuni per i libri per il prossimo anno poi ho preso quello per i vestiti che molto probabilmente spenderò per gli sconti che stanno per arrivare. Quindi insomma anche un'occasione per guadagnare qualcosa concretamente e non pesare magari sulla famiglia. Sì anche perché prendere i libri scolastici per esempio ho deciso di prenderli perché sono molto costosi prendere i libri quindi ho deciso di prenderli ho detto così li ho guadagnati io li prendo io e li vado cioè vado io a prendere i miei libri che mi sono guadagnata lavorando. Cinque magliette per cinque diverse rappresentazioni grafiche del ponte di Bassano sono state scelte tra i lavori presentati dagli studenti delle classi terza e quarta A del liceo d'arte De Fabris di Nove e saranno oggetto di una vera e propria gara per aiutare il grande malato. Alla parte sinistra c'è il progetto con tutte le linee base compreso anche il balcone diciamo ma dall'altra parte ho preso l'immagine del ponte l'ho fatta disegnata a colori e l'ho messa vicino così da sembrare che sfumi dal progetto verso il disegno proprio come è adesso. Volevo rappresentarlo in modo lineare e semplice e quindi ho deciso semplicemente per la sua forma in trasparenza e inoltre pensando al ponte ho iniziato a chiedermi quali parole mi venissero in mente e le ho sfruttate come ad esempio Alpini, Bassano, Montegrappa, Mani, Famiglia per creare lo sfondo. Oggi è scattato il concorso che nella serata del 6 luglio andrà a decretare il progetto grafico vincitore. È possibile votare le magliette semplicemente portandosi nel locale alla presenza di questo foglio a nerire in base alle proprie preferenze. Si visionerà la maglia e si andrà a votarla. La votazione sarà possibile anche farla online attraverso la pagina di Aiutiamo il Ponte verrete collegati ad un link che vi permetterà di andare ad esprimere il voto. La maglietta che piacerà di più verrà poi stampata e messa in vendita. Il ricavato andrà in parte per le iniziative per il Ponte Vecchio e in parte agli studenti del De Fabris. Ecco i risultati d'analisi dell'acqua effettuati da Etra nel comune di Piazzola sul Brenta. I dati che vi presentiamo rappresentano le medie sulle analisi effettuate e attestano la purezza microbiologica dell'acqua che ogni giorno sgorga dal vostro rubinetto. Da casa potete fare il confronto tra i dati riportati in queste tabelle e gli stessi che trovate nelle etichette delle acque in bottiglia. Ecco i dati più significativi per attestare purezza e salubrità dell'acqua. Il pH ovvero l'indicatore di acidità è di 7,44. Il residuo secco è pari a 201 mg per litro. La durezza totale è di 19,1 gradi francesi. Il calcio è pari a 68,5 mg per litro. I cloruri hanno un valore di 5,1 mg per litro. Il potassio e il sodio sono inferiori a 5 mg per litro. Il magnesio si attesta invece sui 14,5 mg per litro. I dati sono forniti da Etra che si occupa di monitorare l'acqua assieme alle ulse in tutto il territorio di sua competenza. Grazie per essere stati con noi. vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci.